Gli avete mai assaggiati? Giscia la cuore alla buffarola? Noi no! E lo sapete perché? Perché non esistono! Maurizio, inventate sto piatto, va! Raga, io non so cucinare. Ma che te frega, frulla tutto! Tagliamo peperone giallo e peperone rosso perché si emota a Roma. Poi tagliamo un pomodoro e l'aglio, così, a metà. Lo stagnoliamo e mettiamo tutte le verdure che abbiamo tagliato nel forno. E un filo d'olio, d'olio. Inforniamo con la stessa soddisfazione di Tiger Woods che fa buca da 2 cm. Le nostre verdure sono pronti, adesso le tagliamo a fettine e le mettiamo in un frullatore. L'aglio ovviamente lo puliamo. Prezzemolo, anacardi e liquido vario. Accendiamo il frullatore. Eh no, non tutti hanno la frullanza. Mettiamo a bollire la pasta e prepariamo il nostro soggetto prefrullato. Ha sentito che voce su a te? Eh, dove si fa il doppiatore? Posizioniamo la pasta in verticale e condiamola come se fosse un film di Sasha Gray. Prezzemolo, pepe e formaggio a scaglia. Ecco a voi, gli scialacuoni alla buffarola. Assaggio! Eh no! Me lo vieni sta a me, sta a scultura! Inventate nei commenti il nome del prossimo piatto, così lo famo!